guardate che faccia cattiva che ha questa Peugeot è un prototipo presentato qui a Parigi si chiama quartz e riprende un po quello che abbiamo già visto sulla 508 questo frontale molto maschio e il nome suggerisce un'altra cosa interessante un po strana ma stiamo parlando di un concept gli interni sono fatti di basalto ma lo solido adesso cerco di farvelo vedere anche se non posso salire non riesco ad avvicinarmi più di così quindi vi suggerisco di guardare le foto che abbiamo fatto sul nostro speciale dedicato al salone vedete è un SUV compatto molto corto altro i cerchi sono da 23 pollici ed è un ibrido che ha un motore a benzina 1.6 turbo da 270 cavalli più due motori elettrici da 85 kilowatt per un'autonomia dichiarata di 50 chilometri insomma un oggetto un po particolare Peugeot ha fatto un po di esperimenti con questo prototipo vedete anche come è fatto dietro